Creazione di un sistema barre In questa lezione si mostra come disegnare un sistema di barre verticali, orizzontali e il sistema di barre di terra. Per disegnare un tratto di barre verticali, selezionare l'icona Sistema barre verticali. Selezionare il quadro in cui si vuole disegnare il sistema di barre cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla testata. Il software mostra sul fronte quadro le aree in cui è possibile disegnare dei tratti di barre verticali. Sono evidenziate un massimo di tre aree per ciascuna colonna. Le due aree laterali permettono un inserimento del sistema di barre con supporti e traverse lungo i lati della colonna. L'area centrale permette un inserimento del sistema barre con supporti e traverse sul fondo della colonna. Per selezionare il punto d'inizio del tratto di barra verticale, fare clic con il pulsante sinistro del mouse all'interno di un'area tra quelle evidenziate. Muovendo il puntatore, il software disegna la barra e ne mostra la lunghezza. Fare clic con il tasto sinistro del mouse quando il tratto di barra raggiunge la lunghezza desiderata. Il software apre la finestra di dialogo Configuratore Sistemi Sbarre in cui è possibile definire il tipo di barre. A ciascun tipo di barra, il software associa il portabarre e le traverse idonee. È possibile impostare il calcolo delle sbarre selezionando l'opzione A profilo intero o A metro. Nel primo caso, per ogni fase, si considera un tratto di barra nuovo. Nel secondo, il software somma la lunghezza totale di barre necessaria per il sistema e calcola le quantità di codici necessaria. Terminata la definizione del sistema di barre, fare clic sul pulsante OK. Attendere che il software abbia disegnato il tratto di barra verticale prima di procedere con ulteriori comandi. Per disegnare un tratto di barra orizzontale, utilizzare la procedura appena mostrata dopo aver selezionato l'icona Sistema Sbarre orizzontale. Per disegnare il sistema di barre di terra, selezionare l'icona Sbarra di terra. Dopo aver selezionato il quadro cliccando sulla testata, il software mostra le aree in cui è possibile inserire la sbarra di terra. Procedere cliccando sul punto di inizio della sbarra di terra all'interno di una delle aree proposte. Muovere il cursore e fare clic sul punto finale della sbarra di terra. Selezionare manualmente nella finestra di dialogo le dimensioni della sbarra di terra, l'isolante e il numero di codici richiesto. Cliccare sul pulsante OK. È possibile modificare la lunghezza di una qualsiasi barra disegnata selezionando l'icona Stira Sbarre. Selezionare la barra da modificare con il tasto sinistro del mouse. Muovere il cursore per variare la lunghezza della barra e fare clic con il tasto sinistro del mouse quando la barra raggiunge la lunghezza desiderata. È possibile inoltre modificare il tipo di barra disegnato. Con doppio clic sulla barra da modificare si accede alla finestra di dialogo Configuratore Sistemi Sbarre, in cui è possibile cambiare il tipo di sbarra. Fare clic sul pulsante OK per inserire la barra modificata. Bene, in questa lezione si è appreso come disegnare un sistema di barre in un frontequadro e come modificarlo. Grazie per l'attenzione.